Il cimitero è un'opera che abbiamo anche lì in concessione, le opere sono finite, le cose che mancano è perché nella previsione si ipotizzava che ci sarebbe stata una necessità diversa da quella che è la realtà, infatti abbiamo tantissimo in venduta. Senta, ma lei è sempre per il fusillo del parco a tema di San Michele, ma a che fine ha fatto questo progetto? Il parco a tema era un'iniziativa che avrebbe dovuto forzare la prima pietra nel 2001, poi invece con il disastro che ci fu della Torre Gemelli il partner che era un gestore americano non ha più. Ma lei è ancora la proprietà di quei suoli, giusto? Ma c'è un vincolo? No, no, non c'è nessun vincolo, ci auguriamo che in tempi migliori si possa realizzare il progetto. Cioè, nel senso, lì non c'è il discorso dello sportello unico? No. Non aveva ottenuto la concessione di rizia per lo sportello unico? C'è la convenzione, abbiamo delle concessioni di rizia pagate in lione al comune di Conversano, dobbiamo aspettare invece che ci sono momenti migliori per poter fare. Non c'è una questione anche giudiziaria in corso lì a proposito con i vicini? C'è stata, c'è stata, però tutta la vicenda è stata archiviata, infatti il comune ha riavuto indietro tutta la documentazione. Va bene, grazie.